buongiorno amici bentorni a cosa urli tornati sul canale oggi abbiamo la cartigenica per pulire il sedere di simona per fare questo ci serve i rotoli di cartigenica vuoti aia minavil e cartigenica pulita pulita allora prima cosa tu hai detto pulita è pulita no guarda sporca sporca è purita se ti serve sporca prendiamo il marrone non lo so vuoi dire pure la marca devi pure la marca della cartigenica è marca discount prendiamo tutto niente per fare ciò prendiamo un pezzettino di cartoncino ma stavo scherzando ma secondo te dai e tagliate la marca della cartigenica vedete i pezzettini così e dopo lì chiudiamo per fare se affetta così è manesca e li dobbiamo fare un rotolino come il rotolino che viene dentro qua no no e lo andiamo a incollare deve rimanere chiuso 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 che è una volta fatti un po vedete i rotolini prendiamo prendiamo la nostra carta igienica e prendiamo la misura del rotolo e andiamo a tagliarla tagliare una bella striscia lunga perché dobbiamo andarla a a pulirci sedere a pulire il sedere di diego e stefano ha solo i loro quelli di giada ma già da non si pulisce ma che schifo si pulisce solo dico allora qui è più pulito di tutti diego dai tagliamo con le strisce lunghe 4 attimo grazie vedete abbastanza lungo e andiamo a prendere il nostro rotolo eccolo fatto più grande dopo 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 lo aggiusto e andiamo a incollarlo la prima mandata no un po di colla prendiamo il nostro rotolo lo attacchiamo vedete così e iniziamo a girare giriamo 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 però giriamo 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 tutto giriamo giriamo a un certo punto quando arriviamo a un certo punto mettiamo un altro po po di colla vedete dopo 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 così mettiamo qua così non scappa pieno si andiamo a girare tutto torno tutto 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 torno come un rotolo normale il rotolino è fatto vedete ho lasciato messo un po di colla qua e ho lasciato il bordo io non so fare niente vedete e se andiamo a fare gli altri io non ho fatti tre sto disegnando vedete con un rotolo normale bene amici con questo video sto andando a nuotare no fate pulire il culo vai non mi serve mi sono fatto il bidet vai non ho un bidet a casa dopo lo faremo ecco qua grandezza barbie bene amici con questo video è tutto noi vi salutiamo vi diamo appuntamento a domani grazie per il rotolo ho un'idea è una cosa bellissima mi ho fatto vedere adesso un'idea con la carta igienica sai già da no e deve uscire che non sconerale eh zitto non si dice niente siamo in diretta ah già vero bene amici con questo video è tutto da noi e le carte igieniche mini e dal mio disegno super brutto non c'è niente vediamo appuntamento io mi tolgo la cola da Elita sì ma ne fai altri no ne costruisci non ti costruisco niente a te ma dai un matrassino dai non abbiamo matrassino noi barbie non abbiamo matrassino sono serio vedi appuntamento a pressione video vuoi matrassino? oh poi voglio un costume però eh cioè mi devi fare un costume sai cosa ti faccio? eh sì devo comprare l'online se tu non li fai non... un cervello babba mi fai il disegno? mi fai mi fai mi fai mi fai ma voglio un costume mi faccio da sola poi voglio un matrassino voglio un matrassino della cacca ah la cacca cacchiamo facciamo la cacca bella fumante è pieno ho fatto la cacca la cacca fumante ho fatto senti poi voglio il motoscafo ah no ce l'ho beh amici con questo video è tutto ma quando ho? noi vi salutiamo e vediamo appuntamento a domani con un altro video ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.